Nome Gennaro Gaetano Cognome Trojanillo D'Agostino Soprannome Ah? Soprannome E che ne lascio? Dago Titolo di studio Quindi elementare Titolo di studio Ragioneria Ah, dici lo studio Hai mai saltato la scuola? Sempre, ho saltato sempre No, quasi mai In quale materia accellevi? Ah? In quale materia accellevi? Acelerò Italiano Cosa ne pensi della politica in Italia? E' tutta una merda Un po' dei ladri Cosa ne pensi del tuo paese? Cosa ne pensi del tuo paese? Sta bene E' tutta una merda Senza Non ci si sa Nella Cosa ne pensi Ma in Italia Per me è piensa il più bello del mondo favorevole o contrario alla pillola? favorevole, sui cini di pindola sui cini di pindola perchè Fenn e Gennaro si sono favorevole oi sono preso fammi sono preso fammi fisico fammi no, comunque non sono favorevole alla pillola in generale sei favorevole ai contraccettivi? ahahahahah non ho capito, non vedo la domanda in generale sei favorevole o contrario ai contraccettivi? ahahah contra... favorevole ahahah alcuni sì, alcuni no hai mai fatto abuso di alcol? si una volta solo hai mai fatto uso di cannabis? uuuuuh tanda cannabis mi fumavo proprio i laberi no passiamo ai proverbi a caval donato ahahahahah completa questo proverbio a caval donato fu donato non si guarda in bocca completa quest'altro proverbio tanto va la gatta all'ardo tutti quando fuggiremo tutti quando fuggiremo dall'alto ci lascia lo zampino passiamo al latino degustibus 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 c'ho una legge in giro ahahahahah fai un urlo aaaaaah 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 fai la piaccia più brutta che ti riesce naturalmente ahahahahahahah fai una faccia triste fai una faccia simpatica ahahahahah ahahahahah cosa ne pensi di mister Sannino? tranquilli una bravissima persona tatticamente brava non proprio ragazzi ma ci sono mi piace mi piace un gran comunicatore e bravo tatticamente quindi mi piace Gennaro cosa ne pensi di Gaetano? ah Gaetano un bravissimo ragazzo oh Gaetano si dalla mia prima impressione mi ha fatto subito appello mi è piaciuto appello mi è piaciuto appello quindi speriamo che quest'anno possiamo andare d'accordo Gaetano cosa ne pensi di Gennaro? chi? tra mila tra mila ma questo è un ragazzo un nuovo giocatore e un ragazzo genuino soprattutto che ce ne stanno pochi in giro fai un saluto alla squadra ciao ragazzi vediamoci vediamo cosa dobbiamo fare ciao ragazzi grazie per le per l'accoglienza che mi avete dato cosa promette i tifosi della Robur? tanta felicità buon Natale buon Natale Gennaro saluta Gaetano ciao Gaetano Gaetano saluta Gennaro ciao Gennaro ciao Gennaro ciao a te